È Massimo Casabalda, 37 anni, cortonese, la vittima di un tragico schianto avvenuto alle 4.45 ad indicatore alle porte di Arezzo nella notte tra venerdì e sabato. Il 37enne è uscito di strada con la sua Audi A3 ed è andato a sbattere contro il muro di una casa. Il rumore ha svegliato tutti. Sono stati allertati i soccorsi ma all'arrivo del 118 i sanitari hanno solamente potuto constatare la morte dell'uomo. A Tavernelle di Cortona, dove l'uomo risedeva, la famiglia è molto conosciuta. Il 37enne era alla guida dell'azienda Femac a Burcinella. Tutta la popolazione è sconvolta e vicina alla famiglia per questa tragedia.